Buongiorno a tutti e benvenuti in cucina botanica. Oggi prepareremo uno dei piatti che personalmente preferisco, che è un comfort food pazzesco oltre che un piatto veramente nutriente e saziante. Sto parlando della pasta ai ceci, un piatto che con le sue mille versioni leggermente diverse l'una dall'altra è anche parte della cucina tradizionale italiana. Senza dubbio cominciamo dai ceci. Per quattro porzioni dobbiamo metterne in ammollo circa 250 grammi. Dopo 8-12 ore di ammollo si saranno gonfiati parecchio, all'incirca così. Li scoliamo, li sciacquiamo e possiamo passare alla cottura, unendo nuova acqua fresca e rigorosamente senza sale, che farebbe diventare le bucce dure e sgradevoli. Io per cuocerli utilizzo una multicooker perché ne possiedo una e mi trovo molto bene, ma potete chiaramente usare anche una classica pentola col coperchio oppure una pentola a pressione. Il tempo di cottura dei ceci varierà a seconda del metodo di cottura utilizzato, del tempo di ammollo che hanno fatto in precedenza e della grandezza dei ceci stessi. Una volta finito il tempo di cottura, che nel mio caso è stato di 45 minuti, preleviamo la metà dei ceci e li frulliamo per creare una gustosa crema che avvolgerà meglio la nostra pasta. Intanto in una pentola versiamo olio, uno scalogno tritato, un rametto di rosmarino, anch'esso tritato bene al coltello e due o tre pomodori pelati. Facciamo insaporire il tutto e poi aggiungiamo i ceci che abbiamo cotto con la loro acqua di cottura, facendoli insaporire a loro volta. Fatto questo possiamo aggiungere anche la crema di ceci che abbiamo frullato in precedenza e regolare di sale, perché vi ricordo che finora non abbiamo ancora salato nulla. Secondo me la dose ideale in questo caso è di un cucchiaino di sale fino. Mescoliamo e controlliamo la consistenza. Se il composto è troppo asciutto possiamo aggiungere un bicchiere d'acqua o più. Una volta che tutto bolle possiamo buttare 300 g della pasta che preferiamo direttamente insieme ai ceci. Io ho scelto questo formato perché è grande circa quanto i ceci e personalmente lo adoro. Piccola nota, lo cuoceremo per la metà del tempo indicato in confezione. Per esempio la mia pasta doveva cuocere 12 minuti ma io dopo 6 minuti mi sono fermata e ho spento la fiamma. Gli altri 4-6 minuti ho lasciato che la pasta andasse avanti nella cottura ma con la pentola a fuoco spento e con il coperchio. Dopodiché è arrivato il momento di impiattare. Un bel giro d'olio finale, una macinata di pepe e se vogliamo un po' di olio al peperoncino. Ottimo con questa pasta deliziosa e perfetta per scaldare le grigie giornate invernali. Se questo video vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Io spero che rifarete questa ricetta e vi aspetto qui sul canale di Cucina Botanica nel prossimo video. Grazie a tutti.